In una fiera specializzata sul biologico, qua anche a Bolsano, non poteva mancare l'aceto balsamico di Modena e qua c'è un operatore, Lorenzo Guestoni. Buongiorno Lorenzo, sei un frequentatore di questa fiera, porti la bandierina di Modena a Bolsano. Ci provo, esatto, ci sono tanti anni che la facciamo, abbiamo sospeso ultimamente ma adesso abbiamo ripreso, direi che ci siamo qua dalla prima edizione. Qual è la risposta del consumatore, diciamo alto tesino, a un prodotto di nicchia come il nostro aceto balsamico tradizionale? Penso che siano molto positivi, sono interessati, poi noi siamo particolari anche perché abbiamo l'agricoltura biologica e biodinamica e qua è anche uno dei luoghi in Italia dove è più conosciuta l'agricoltura biodinamica, per cui è proprio per noi una combinazione perfetta. Oltre al balsamico tu hai altri prodotti, c'è un interesse particolare anche alle eccellenze che sono in questo caso modenesi ma emiliano e romagnolo in generale? Ma sì, oggi ho provato per esempio a far assaggiare l'aceto balsamico con il parmigiano, di un'azienda che è sempre qui che espone, parmigiano ovviamente reggiano. Vedo che la gente lo assaggia molto volentieri, quindi c'è questa combinazione, è una joint venture diciamo di assaggio. Un sodalizio vincente questo? Sì, questa combinazione vince dappertutto, c'è parmigiano e aceto balsamico vince ovunque. Il parmigiano reggiano in Alto Adige è apprezzato? Molto apprezzato, sono ormai dalla prima edizione che veniamo al Biolife e la gente torna e ogni anno torna molto contenta e dice che il parmigiano era molto buono. Voi siete di Parma? Provincia di Parma, di Bardi, sull'Appennino Toschemigliano. Da sempre biologici? Sì, sì, sono dal 2000 che facciamo parmigiano biologico. Qui apprezzano molto il biologico, infatti quando la gente arriva vede parmigiano e poi quando gli dice biologico gli si illuminano gli occhi e fa pure biologico dicono. Qua apprezzano molto. A Biolife di Bolzano abbiamo parlato di latte biologico ma noi abbiamo voluto vedere dove si produce questo latte. Ci troviamo nel maso Tancher, siamo a Lyon, un comune della Valle Isarco e sono con Mattias Ploner che è un allevatore biologico. Buongiorno Matteo, questa è un'attività impegnativa, sei in un maso a più di 1000 metri d'altezza. Quanto è difficile produrre latte in questo territorio ma soprattutto quali sono le difficoltà che incontra un agricoltore per allevare vacche? Come fai tu in questo caso? Sì, è difficile perché non ci sono prati propri belli, no sai? Così dura tanto tempo. Per esempio per fare il primo taglio ci serve quasi due o tre settimane. E' un lavoro proprio intensivo, sai? Raccontaci un po' il tuo allevamento. Intanto questa è una rassa austriaca che si chiama la rassa che tu allevi. Questa è la razza Pinskauer, è una razza austriaca. E' una razza che ci dà il latte ma ci dà anche la carne. E' proprio, come si può dire, una razza dura. Quindi molto rustica adatta a questi territori. Sì, questa è proprio una razza adatta a questi territori anche per la malga. E' come si vede anche una razza proprio... Molto docile. Sì, sì. Quanti mesi stanno quindi al pascolo queste bovine? Ma le mucche sono da aprile fino a novembre, fino a viene la neve, sono in pascolo. I vitelli vanno in malga da maggio fino a ottobre e rendono fuori fino a novembre i vitelli. Quindi sono assolutamente rustici. Sono quindi vacche che sono alimentate assolutamente con fieno, anche perché il disciplinare produttivo, tu sei produttore biologico, ti impone di osservare determinate regole. Sì, io lo do solo fieno e anche un po' di mangime. Questo serve. Così le mucche funzionano bene perché le mucche da me non devono produrre così tanto latte come forse in altri posti. Poi tu, essendo elevatore biologico, non utilizzi chimica anche per la loro cura, ma insomma utilizzi prodotti omeopatici. Sì, io utilizzo tanti prodotti omeopatici. Non voglio dire che non viene mai veterinario, viene anche da me, mi serve anche a me. Ma io voglio quasi fare tutto con l'omeopatia e funziona anche proprio bene, sì. E con me anche Thomas Reiter, che è responsabile marketing della Brini, che è la cooperativa, che utilizza il tuo latte. Diciamo che tu conferisci questo latte a questa azienda. Parliamo un po' di questa cooperativa che raccoglie il latte della Vallata e buona parte anche di questo latte biologico come altri allevatori. Ecco, noi, come lei ha già detto benissimo, siamo una cooperativa, quindi noi raccogliamo il latte di 1.100 soci, di cui una parte produce il latte fieno e anche il latte biologico come Mattias, il latte biologico, il latte fieno anche. Diciamo, noi come cooperativo abbiamo, il nostro compito è sicuramente di fornire o di dare il più soldi possibili ai nostri soci e noi siamo specializzati nella produzione di mozzarella. Quello, infatti, è la cosa un po' strana. Mozzarella al totesino. Sì, esatto. Quindi, esatto, quello è un po' la cosa non tipica, chiamiamola così, però la storia è nata più o meno 40 anni fa per un motivo anche di... che le altre latterie del posto avevano problemi di farsi tra di loro concorrenza, quindi hanno cercato a Bressanone di fare un po' una strada diversa che gli altri che producono yogurt. Fate concorrenza alla mozzarella, diciamo, del nostro sud. Esatto, sì, 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 esatto. Però crediamo in questa filosofia con il latte di montagna, perché come avete visto qua la differenza fa proprio il fieno e il territorio dove vivono le mucche. Poi abbiamo una media di mucche di 13 pezzi per stalla, che è una media molto, molto bassa, paragonandoci con l'Europa, e noi crediamo in questa filosofia di qualità del latte. Come avviene la raccolta del latte proprio per questa capillarizzazione, questa polverizzazione delle aziende che c'è sul territorio? Allora, se lei intende proprio la raccolta del latte, noi abbiamo i nostri automezzi che vengono ogni giorno a raccogliere il latte. Nel bio raccogliamo ogni due giorni il latte, per una questione proprio di efficienza nella raccolta e che abbiamo pochi soci che ci forniscono finora il bio. Mattias, tu hai una tua cisterna e quindi ogni due giorni conferisci questo latte ad un altro mezzo che comunque lo raccoglie. Sì, io vado ogni secondo giorno in paese alle 12 di mattina, di là viene il camion, dalla primi e prendo il latte. Questa era una azienda che era di famiglia. A un certo punto tuo papà ha deciso di non tenere più vacche, ma tu hai voluto riniziare a fare l'agricoltore una decina d'anni fa. Sì, mio papà ha detto che lui non vuole tenere le mucche, fa il suo lavoro in macellaio e fa questo. Dieci anni dopo ho detto no, adesso lo faccio io, ho costruito tutta la stalla nuova, finito nuova, ho comprato le prime mucche della razza Pinskauer e poi ho iniziato questo lavoro. Insomma, ti dà soddisfazione oppure devi sempre sgomitare un po' anche con la burocrazia e con i costi di produzione che ci sono anche qua e le difficoltà naturalmente dovute al territorio. Con la burocrazia è un po' un problema, sì, è sempre tanto. Con i costi si deve guardare come si fa. Ogni contadino da noi deve guardare come fa il suo conto, sai? Sì, ma l'importante è che questo lavoro ti renda felice, se questo lavoro non ti rende felice devi lasciare subito, se no... Quindi da questo punto di vista trai soddisfazione? Sì, sì, sì. Io voglio fare questo lavoro e penso anche di farlo ancora tanti anni. Chiedo adesso anche a Thomas, qual è la risposta del consumatore ad un prodotto biologico che è in crescita a livello generale, a livello nazionale, ma che trova anche delle nicchie produttive come queste? Allora, se si legge sui giornali che il bio cresce 10, 12, 16%, comunque parliamo di un mercato molto di nicchia. Allora, nel segmento mozzarella dove produciamo noi, il bio è del 0,6% di tutto il mercato, quindi una nicchia proprio piccolissima. Noi notiamo, essendo l'Italia il nostro mercato principale, che l'Italia non risponde ancora così bene al biologico come in altri paesi, perché vediamo che il consumatore italiano punta tanto sulla qualità, quello è vero, però non ha ancora trovato il valore aggiunto del biologico. Però io penso che il mercato è ancora un po' prematuro, e penso che fra un paio di anni anche il consumatore italiano apprezzerà di più questi prodotti biologici. Bene, grazie. Reiter e Thomas Reiter, chiedo scusa. Mattia, ti salutiamo, ti ringraziamo, ci hai fatto vedere a tua azienda, ma ti lasciamo adesso alla mungitura, che è un'operazione che ti impegnerà per almeno un'oretta. Grazie. 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 Grazie.